Ha ringraziato i consiglieri e si è detto molto soddisfatto. Ha esordito così ieri sera il sindaco Marco Zambuto, a conclusione del Consiglio Comunale di Agrigento, che ha visto l'approvazione del bilancio di previsione, senza alcun voto contrario. La soddisfazione e il ringraziamento perché, ha precisato il primo cittadino, è stato approvato il bilancio senza alcuna opposizione, ma con il contributo costruttivo, anche se talvolta critico, da parte di tutti. Ciò continua e sintomo di una grandissima collaborazione di piena apertura che si è concretizzata nel lavoro preparatorio svolto insieme. Per Zambuto gli obiettivi principali concretizzati nel bilancio sono la riduzione della spesa corrente e il non avere aumentato i tributi. Gli impegni di spesa sono passati infatti da 55 milioni e mezzo di euro del 2006 ai 45 milioni dello scorso anno. Inoltre quest'anno il Comune farà ricorso all'anticipazione di cassa da parte della tesoreria comunale per circa il 20% in meno rispetto al 2009. In questa situazione di ristrettezze, commenta Zambuto, sono state comunque mantenute le spese per i servizi sociali e ridotte quelle per le iniziative culturali. Un clima politico sereno ci attende nei prossimi mesi, ha concluso Zambuto, per affrontare e risolvere insieme i numerosi problemi aperti, dare risposte ai cittadini e continuare a concretizzare le opere già programmate e che cominciano ad essere finanziate. ...responsabilità, ma che vi devo dire rispetto alle... Grazie. ... ...